Nella diretta di ieri andata in onda sulla nostra emittente, importanti sono stati gli interventi dei sindaci che hanno aderito al protocollo con la Fondazione Paolo Ascerto per lo screening sulle popolazioni e per capire attraverso un test sierologico se ci sono cittadini immunizzati al virus. Primo comune chi ha siglato questo accordo è Cicerale, guidato dal sindaco Gerardo Antelmo. Questa situazione di emergenza deve essere affrontata con gli elementi di ordine pubblico ma anche con operazioni che possono risolvere il problema in maniera definitiva. Sono stato la pripista però tantissimi comuni del territorio hanno aderito e per la prima volta anche piccoli enti locali si affidano alla ricerca scientifica. Con l'aspetto scientifico diamo un'ulteriore spinta per affrontare il problema. Il dottor Paolo Ascerto e tutti coloro che collaborano al protocollo ci daranno risultati importanti. Ospite della diretta anche il sindaco di Pollica Stefano Pisani e firmatario del protocollo con la fondazione. Il progetto di screening ci renderà in grado di capire come reagisce al virus la popolazione del Cilento. Uno studio di questo genere su una popolazione ampia ci dà dati utili anche per il futuro. La modernizzazione del mondo produce nuovi virus e avere dati rilevanti di questo genere ci rende più pronti nel futuro in caso di nuova epidemia. Insieme a lui anche il sindaco di Castelza Lorenzo Giuseppe Scorza. Questa è un'iniziativa per dare testimonianza al dottore Ascerto di fiducia e stima e servirà a contribuire alla soluzione di questa pandemia che sta mettendo a dura prova le nostre comunità. Il Cilento sta dando un contributo decisivo al contenimento. Lo screening ci farà capire anche la situazione sanitaria dei cittadini. Bisogna proseguire uniti in questo cammino. Ed infine il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli ha dichiarato sempre in diretta. Noi come comune di Castellabate abbiamo adottato il 31 marzo questa iniziativa. Devo ringraziare il sindaco di Cicerale, Gerardo Antelmo, che ha fatto da apripista. È doveroso creare questa rete di dati ed investire nella ricerca scientifica. Questo momento ci fa capire le priorità che dobbiamo dare alla ricerca e sensibilizzando soprattutto possiamo far capire perché è necessario investire in questo campo. È importante fare questa attività e spingere in questa direzione.